Ti ho dato tre mesi per trovarmi quel nome, Viola. È la decima stesura che scrivo. Ancora molte, molte cose devono accadere stanotte. Come lo sai? Seguimi. Questa è una notte magica, Viola. Una notte fatta di incontri inaspettati, quegli incontri che quando accadono cambiano la vita di tutte le persone coinvolte. Pensa fuori dall'ordinario. Scusa, cosa hai detto? Ogni cosa ha bisogno del proprio tempo. Se voglio finire il mio romanzo non posso aspettare ancora. Ma che cosa è una rievocazione storica? È ora che io ti porti in un luogo dove le idee prendono forma. Certo serve anche trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Andiamo a prenderci questo finale. Su! Due vite lontane che si intrecciano e non si incontrano mai. Ricordati, il caffè è sempre un buono inizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.